In questo numero del Tg Ambiente. Dal 2017 bonificate 69 discariche. Italia in prima fila nell'inventario di 7200 ghiacciai in Asia. L'inquinamento luminoso è in rapido aumento. Un patto per la plastica riciclabile. Dal 2017 ad oggi sono stati bonificati o messi in sicurezza 69 siti, una media di 14 discariche l'anno. 11 sono in attesa di comunicazione formale da parte della Commissione europea per la chiusura della procedura di infrazione. I numeri sono stati resi noti dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Nel corso del convegno il modus operandi dell'Italia e dell'Arma dei Carabinieri per la bonifica delle discariche e la soluzione della crisi. Buone pratiche di attuazione per l'inquinamento zero. Un incontro per porre l'attenzione sulla condivisione delle migliori pratiche utilizzando il metodo operativo ed i risultati ottenuti dalla Task Force dell'Arma dei Carabinieri con l'obiettivo di innescare un processo di condivisione a livello europeo dell'iter attuato dall'Italia. La sanzione europea è diminuita da 42 milioni e 800 mila euro a semestre a 2 milioni e 800 mila nel secondo semestre del 2022 con un risparmio complessivo di 80 milioni all'anno a partire dal 2018. Secondo il Ministro le discariche ci separano dall'economia circolare, dalla sfida di rifiuti zero, dalla possibilità di un recupero energetico delle materie. Italia in prima fila nel progetto Glacier and Students che stilerà l'inventario di 7200 ghiacciai della catena montuosa del Karakorum, la più grande riserva d'acqua dolce dell'Asia. L'obiettivo è quello di consegnare al Pakistan nuove tecnologie di riconoscimento dei ghiacciai per la conoscenza delle proprie risorse idriche, per capire come gestire l'acqua per l'agricoltura, per l'energia e per l'uso umano. Il monitoraggio dei ghiacciai serve per prevenire i rischi dei dissesti idrogeologici compresi il GLOF, fenomeni di sfondamento dei laghi glaciali nelle aree montane del paese e di allerta per le inondazioni che nel 2022 hanno duramente colpito le pianure con oltre 1200 morti, un milione di abitazioni distrutte e 468 mila sfollati. Questo progetto avviene grazie a un accordo bilaterale promosso dall'Associazione EVK2 e che vede tra i partner Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, Cooperazione Italiana, ASI, Università di Cagliari e Milano, Università e Istituzioni Pakistane. L'inquinamento luminoso è in costante aumento e molto più velocemente del previsto. A rivelarlo è un nuovo studio, da poco pubblicato sulla rivista Science e condotto da un'equip di ricercatori del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze di Postdam. Gli scienziati hanno messo insieme i dati provenienti da osservazioni del cielo notturno, condotte principalmente da appassionati di astronomia e da citizen scientist, che per oltre dieci anni hanno contato le stelle visibili e hanno inviato i numeri al portale Globe at Night. Analizzando decine di migliaia di osservazioni, gli autori hanno scoperto che le stelle meno luminose sono ormai nascoste a causa dell'aumento del 10% dell'inquinamento luminoso dovuto all'illuminazione artificiale. Con i satelliti che abbiamo oggi a disposizione è difficile quantificare l'aumento dell'inquinamento luminoso, spiegano gli esperti, perché i loro rilevatori non sono sensibili alla luce blu dei LED che ormai stanno sostituendo tutte le altre fonti di illuminazione. Le conseguenze sono serie e profonde. L'inquinamento luminoso ha effetti sul comportamento di alcuni animali notturni e sembra essere collegato alla diminuzione del numero degli insetti. Inoltre è responsabile di disturbi del sonno e altre disfunzioni sia negli esseri umani che negli altri animali, che stanno progressivamente riducendo l'uso della visione notturna. Secondo gli esperti, il problema dell'inquinamento luminoso può essere mitigato in molti modi, per esempio migliorando la progettazione della direzione, dell'intensità e del tipo di illuminazione e prevedendo la possibilità di diminuire l'uso delle luci quando e dove queste non sono necessarie. Rispondere al crescente bisogno di sostenibilità degli imballaggi in plastica promuovendo la cultura del riciclo. Sono questi alcuni dei principi ispiratori del patto siglato dai principali attori della filiera della trasformazione delle materie plastiche, i consorsi CONAI, Ecorepla e le associazioni Union Plast e Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo, i PPR, che stabilisce una sinergia finalizzata alla creazione di un nuovo schema di certificazione per attestare la riciclabilità degli imballaggi. Alla base dell'intesa c'è la consapevolezza che solo rafforzando la collaborazione tra tutti i soggetti che si occupano di recupero, riciclo e riciclabilità dei rifiuti di imballaggi in plastica, si possa creare maggiore valore per le imprese e le persone, promuovendo contestualmente una più ampia partecipazione di tutti gli stakeholder. Per la realizzazione dell'economia circolare è infatti fondamentale coinvolgere realtà diverse, consumatori, imprese, scuole, istituzioni e centri di eccellenza, favorendo lo scambio di informazioni sulla riciclabilità degli imballaggi in plastica. Gli esperti di CONAI, Ecorepla, Union Plast e i PPR lavoreranno quindi alla stesura di un disciplinare di certificazione che si affianchi a strumenti nuovi o esistenti per consentire alle aziende di raggiungere i livelli sempre più alti di riciclabilità, come richiesto anche dalla proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi che prevede che nel 2030 possa essere commercializzato solo packaging riciclabile. Il disciplinare prevederà anche tutti i test di laboratorio necessari per verificare la conformità ai requisiti previsti. Grazie a tutti.